buongiorno buongiorno sono marco caggiati il fitness coach delle donne e se ti piacciono i miei contenuti ti chiedo di fare tre cose numero uno iscriviti al canale numero due attiva la campanellina per essere informata subito quando pubblico un nuovo video e numero tre mettere un bel mi piace per aiutare il canale a crescere e ora bando alle ciance e diamoci dentro con l'allenamento di oggi un'altra parte un'altra parte un'altra parte Grazie a tutti 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 Grazie a tutti